Fine gara della finale tra Scandale e Pro Mesorache vinta dallo Scandale per 5 a 1 si festeggia il compleanno, i 29 anni di Luigi Marino centrocampista oggi difensore dell'US Scandale lui che è di Mesorache, oggi ha dovuto giocare contro il suo paese, la sua cittadina e ha contribuito a questa vittoria dallo Scandale che regala lo Scandale per gli eventuali accessi in prima categoria che si dovrebbe disputare il 3 giugno in campo neutro contro il Real Francavilla squadra del Vibonese di Francavilla in Cipola Siamo tutti che gli aspettavano dal piano grazie di aver visto il clavo, questa è un'altra grinta ma la mia privata è un pallone la mia criticità ma l'altra c'è una cosa per vendere in casa avete visto questo clavo? ma no spieghi non vogliamo giocare anche di un ucciso grazie ed ecco che aprono la torta, in particolare proprio la ragazza di Luigi ed è bianco celeste la torta di Luigi con lo scudetto dello scandale grazie